Maria de Filippi a Uomini e Donne dimostra di essere sospettosa quando due partecipanti raccontano come sta proseguendo la loro conoscenza. La conduttrice fa sedere al centro studio un nuovo cavaliere di questa edizione. Alessandro S. E. Tredame. Eleonora. Desdemona e Paola. Il discorso si concentra tutto sulla prima. Che inizialmente dichiara che non c'è attrazione fisica da parte sua. L'uomo conferma. Dichiarando che neanche lui si sente particolarmente attirato da lei. I loro discorsi. Però. Sono pieni di contraddizioni e Maria non si lascia fregare. Alessandro ed Eleonora fanno sapere che c'è stato un bacio a stampo tra loro. Ma loro. La redazione. Mi dicono che tu. Alessandro. Hai raccontato che ieri sera c'è stato un bacio vero e proprio. Afferma invece Maria. Se quello per te era un bacio vero. Afferma perplessa la dama. Dopodiché. La conduttrice fa sapere che lui ha rivelato alla redazione che ci aveva provato con Eleonora. Ottenendo un rifiuto. A questo punto. La dama spiega come sono andate le cose. Mi ha lasciato il numero il primo giorno. Ma non mi ha colpito. La seconda volta mi chiede di ballare. La sera mi lascia il numero e lo accetto. Abbiamo fatto un aperitivo che doveva durare mezz'ora e invece è durato cinque ore. Mi ha preso mentalmente. Ma non ho avuto quell'impatto fisico che ci doveva essere. Ci siamo dati comunque l'opportunità di andare avanti. Anche se volevo chiudere. La situazione raccontata da questa dama e da questo cavaliere a U e D non convince molto. Era reciproca la cosa, aggiunge Alessandro. Detto ciò. Eleonora racconta che hanno poi deciso di chiudere. Anche se poi si cercano a vicenda per messaggio. Hanno. In seguito. Parlato nel parcheggio per chiudere. Ma si sono nuovamente cercati per telefono e alla fine hanno trascorso una serata insieme.